Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport Un buon pomeriggio da parte di Christian Siciliani Ieri ulteriore stangata sul Bari con la commissione disciplinare Che ha inflitto ulteriori due punti di penalizzazione alla formazione di Torrente Per il mancato pagamento degli stipendi relative ad aprile, maggio e giugno del 2011 Però in primo piano anche il calcio scommesse Senza dimenticare che domenica alle 12.30 si torna in campo Perché ci sarà al San Nicola Bari Regina Ne parleremo con voi allo 080 501 9998 E con il mio ospite di oggi il giornalista e anche conduttore del TV Sport Ultimo minuto Davide Lattanzi Buon pomeriggio Davide Buon pomeriggio Christian Allora vi ricordo anche che sabato ci saranno a Bari al Palaflorio Sabato mattina i campionati nazionali di ginnastica Quindi i primi due ascoltatori che invieranno un sms all'SOS TV Sport Potranno dunque assistere a questo evento comunque importante per la città di Bari Davide allora due punti di penalizzazione Una sentenza quasi possiamo dire prevista o ti aspettavi comunque dalla commissione disciplinare Minore severità No diciamo che il provvedimento un po' me l'aspettavo perché effettivamente L'orientamento è quello di ragionare trimestre per trimestre quindi quando non paghi un trimestre poi lo devi saldare alla trimestralità successiva Solo che la norma effettivamente è scritta male e quindi non mi aspettavo diciamo clemenza Però speravo magari che il principio potesse essere riaffermato ma che con il Bari ci fosse un minimo più di mano leggera Perché comunque l'interpretazione esatta è stata notificata il 14 novembre cioè proprio il giorno in cui il Bari avrebbe dovuto pagare Quindi obiettivamente si poteva anche riaffermare il principio però avere un po' la mano più leggera con il Bari Non è andata così, la battaglia comunque è appena cominciata perché il Bari la proseguirà negli ulteriori gradi di giudizio E vedremo che cosa accade, la cosa brutta è che adesso i due punti il Bari li ha presi E invece per completare tutto l'iter giudiziario ci vorrà secondo me più di un mesetto E rischiamo di riavere questi punti quando ormai il campionato volge al termine Abbiamo intanto un primo ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristiano, ciao Davide e Daniele Ciao Daniele Io sono stupefatto perché per quanto riguarda i due punti la giustizia sportiva fa in fretta Però poi per quanto riguarda il pagamento che la società ha fatto Diciamo tra virgolette purtroppo Andrea Masiella ha dovuto pagare E quindi neanche congelare quei soldi appunto in attesa di giudizio Poi Davide secondo te in altri stati europei ultimamente è successo qualche scandalo di calcio scommesse? Se no perché in Italia? Cosa c'è da giustare in Italia allora? Ciao Grazie, grazie Daniele per il tuo intervento Davide Beh il calcio scommesse sì, sono successi diversi scandali Ce n'è uno in corso in Ungheria E si è anche purtroppo suicidato un dirigente che combatteva duramente lo scandalo scommesse Infatti questo è successo proprio pochi giorni fa Pochissimi giorni fa sì E poi ne sono successi un po' in varie parti d'Europa In Germania pochi anni fa ci fu uno scandalo sugli arbitri Simile per certi versi a quello che avvenne con Calciopoli in Italia Purtroppo il calcio è pieno di questi episodi In Italia però c'è da dire che c'è una mentalità poco sportiva Da noi non succederà mai che una squadra già condannata va a togliere punti ad uno in lotta Perché appunto al di là delle scommesse i finali di campionato sono sempre un po' falsati E quindi questo obiettivamente purtroppo la cultura sportiva del nostro paese Andrebbe rivista completamente dagli stadi al modo di concepire Insomma onestamente servirebbe un reset complessivo da questo punto di vista In questo momento ci mancava il discorso delle scommesse Io devo dire che da quando sono state legalizzate le scommesse temevo Che qualcosa del genere si potesse prima o poi verificare Davide però è il momento giusto per fare davvero piazza pulita e ripartire da zero Si è parlato di amnistia però è una cosa davvero che non si può prendere in considerazione Il problema è che per fare piazza pulita ce lo fai se dai delle pene esemplari Se cominci davvero a radiare i calciatori a mettere le mani nelle loro tasche Purtroppo devo dire anche a penalizzare le società che sebbene in parte sono penalizzate Come può succedere nel caso del Bari però devono comunque rafforzare il controllo Però devono essere pene esemplari Io per quanto riguarda Calciopoli alla fine pene esemplari non ne ho viste Eh no infatti non ci sono state Tutto sommato nei vari gradi di giudizio poi il Milan, la Lazio e la Fiorentina Hanno avuto delle pene alla fine come dire ridicole E la stessa Juventus se effettivamente era l'apice della cupola Ha perso una categoria, ha perso un anno della sua storia Ma se fosse stato così avrebbe dovuto essere radiata o ripartire da zero Quindi obiettivamente se si vuole fare piazza pulita si devono dare delle pene davvero brutte Brutte, afflittive su tutti Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto abbiamo perso l'ascoltatore in linea Davide bisogna dire anche che il Bari verso metà aprile perderà un altro punto sicuro Per il mancato pagamento dell'IRPEF però potrebbero essere anche due E temo che possano essere due sì perché il Bari non ha pagato le ritenute Sia su ottobre e dicembre ovvero il trimestre che si doveva appunto coprire a febbraio Ma non ha pagato le ritenute neanche su aprile e giugno perché verranno tutte retezzate Quindi bisogna vedere poi la commissione disciplinare come valuterà questa fattispecie Se la valuta come fattispecie unica o se la valuta come due fattispecie distinte Io temo che ci possa essere questo orientamento e quindi che i punti possano essere due Quindi altri due, sì in tutto Arriveremo a sei punti E infatti, abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Sì, buongiorno, ciao, sono Michele Ciao Michele Innanzitutto, io di tutta questa storia del calcio al commesso comincerei a prendere con il signor Bellavista Che poi dopo la prima sentenza, cioè dopo che è stato chiamato, si è fatto il giro delle televisioni andando a piangere Poi vi vorrei sapere, per quanto riguarda il coinvolgimento delle società, ma il Bari ha fatto nessuna smentita? Grazie, grazie per il tuo intervento Beh, il Bari, Davide, non ha fatto nessuna smentita rispetto a queste voci che vorrebbero anche le società coinvolte in questo scandalo Sì, non ci sono state smentite, però il Bari comunque ha mosso degli atti ufficiali Dei passi ufficiali sul piano giudiziario, c'è stata una denuncia per truffa contro gli eventuali autori delle combine E poi il Bari, nel momento in cui il processo verrà istituito, perché siamo ancora comunque in una fase di indagine Si costituirà parte offesa, quindi sono stati fatti dei movimenti concreti Anche se le voci su un possibile coinvolgimento della società sono state successive, Davide, a questa azione Non sono state successive, però voglio dire, se ci fosse del fondamento la società avrebbe dovuto compiere dei passi indietro Da questo punto di vista, cioè sarebbe assurdo che una società che si muove a propria tutela poi si scopre colpevole Quindi mi auguro che il fatto che il Bari abbia mosso dei passi ufficiali sia indice di totale straneità alle vicende Però, ripeto, la responsabilità oggettiva esiste, secondo me comunque in certi casi anche bene che esista Quindi purtroppo una penalizzazione arriverà, mi auguro che sia veramente il più leggero possibile Perché da due anni a questa parte sono ceffoni in pieno viso ogni giorno e francamente cominciamo a non farcela più Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Cristian, ciao Davide, sono Gianni D'Aiapigia Ecco, proprio volevo intervenire sulla società Dunque, la società non ha vigilato sul calcio a scommesse Non ha pagato gli stipendi e non ha pagato l'IRPEF E quindi decurtazione di vari punti Sono giustificati, perché se la regola è quella Scolamento tra società e città di Bari Istituzioni e tifosi Ma dobbiamo ancora sostenere i matarese Questi se ne devono andare Perché scomparisse il calcio da Bari Ma i matarese se ne devono andare Questo è tutto Grazie, grazie per il tuo intervento Davide, i matarese hanno annunciato il loro disimpegno E' anche vero che in questo momento davvero il calcio a Bari è morto Non abbiamo davvero più nulla Sì, purtroppo è così Anche perché onestamente commentare una squadra che, voglio dire, va anche sostenuta per tutto l'impegno che ci sta mettendo malgrado un milione di problemi Però non si vede una prospettiva Alla base della società Quindi bisogna assolutamente cambiare proprietà Altrimenti navigheremo a vista tra tante difficoltà Tra tanti problemi e con prospettive sempre più Per me è trovare un acquirente, Davide, in una situazione così complicata proprio per tutto il calcio qui a Bari Però io aspetto al varco qualcuno Perché adesso, voglio dire, sta succedendo quello che sta succedendo Quindi c'è anche quest'ombra delle scommesse Però voglio vedere quando questo, insomma, si chiarirà Perché prima o poi avremo, insomma, delle sentenze sul fatto delle scommesse Voglio vedere se qualcuno comincia a farsi avanti Perché è indispensabile cambiare proprietà Ma io movimenti concreti ne vedo pochi Pubblicità, a tra poco con la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport Grazie